Rivedere tale schermata dopo circa un anno su Fortnite, devo dire, fa un certo effetto. È un onore e un piacere immenso ritornare con il capanno di mezz'inverno, qui assieme a tutti quanti voi. Ragazzi miei, che ricordi! Anche voi stavate aspettando questo evento natalizio, allora partiamo subito con un bel pollicione all'insù e ci rechiamo subito all'interno del rifugio. Guarda, 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 guarda... Ho le lacrime. Ragazzi, mi viene da piangere. Facciamo una panoramica generale di tutto quello che possiamo trovare all'interno del capanno. È cambiata qualcosina rispetto ai due anni precedenti? Soprattutto il protagonista. Da Crackshot siamo passati a Babbo Natale e adesso a Gaff, che tra l'altro è disteso proprio lì a sinistra. Regge un regalino parecchio sospetto. Ebbene sì, è proprio lui uno dei due ultimi regali che potremo aprire all'interno di questo capanno. Le due skin sul divano fanno pensare subito che loro saranno altri due regali. Purtroppo no, Jonesy è una skin del Nego Segetti e credo che lo sarà anche lei, liccata per la primissima volta ieri tramite l'aggiornamento. Sulla destra abbiamo tanti, e dico tanti, regali da scartare. Guardate però queste campanelline perché sì, possiamo interagire con tante cose che ci stanno attorno. Eccole qui. È molto spettacolare questa. Ancora non ho aperto il mio primo regalo. L'ho conservato volutamente per questo videozzo. Tra l'altro, riguardo Gaff, abbiamo la sua stessa identica skin, con uno stile selezionabile diverso, a 0€ nello shop giornaliero. Potete riscattarla tramite computer oppure utilizzando semplicemente GeForce Now. Andiamo qui, richiamoci al camino. Lui darà EXP. 10 punti XP. Credo che il massimo sia 1000, proprio come l'anno scorso. Quindi ben 1000 punti esperienza. Un po' rari rispetto agli altri, che dovrebbero essere 10 e 20. Vediamo se ci dà qualcos'altro. 10 punti esperienza, va bene, va bene, va bene. Andiamo sulla sinistra. Il regalone verde è uno di quelli da tenere per ultimo. Scuotiamo un attimino. Vedete, ci sta scritto da tenere per ultimo. Quindi significa che conterrà una skin. Tra l'altro, questo evento dura dal 13 dicembre fino al 3 gennaio. E sì, una domanda che si pongono quasi tutti è Ma Martex, io posso conservare i regali? Assolutamente sì. In questo caso io adesso ne ho uno da aprire. Domani ne avrò due. E tra l'altro, a che ora posso aprire i regali? Ogni giorno alle 15 se ne sbloccherà uno nuovo. Ciò che cosa significa? Se non apri quello di oggi, domani ne avrai due da aprire. E così via. 3, 4, 5 man mano che li conserverai. Possiamo interagire con questo frigo ragazzi? Guardate un po'. Ok, ci mostra tanti, e dico tanti, shieldini. Abbiamo una pozza parecchio piccante qua giù. Un po' di pesciotti, un hot dog e una bananita congelata. Una sorta di riferimento a quello che è stato il regalozzo più atteso di tutto il Winterfest scorso. Possiamo interagire con altre cose? Assolutamente sì. Vedete il lama sul caminetto? Ecco, il neon si accende e spegne. A seconda di quante volte ci clicchiamo. Altra cosa. Questa è una call, questo è un riferimento alla macchinetta che avevamo l'anno scorso in giro per il capanno. Guardate, clicchiamo sul joypad verde poggiato sul divano. Guardate che cosa accade. Una motocross in giro ragazzi miei. È bellissimo dai. Caruccio, è sparita. Dovrebbe tornare eh. Ma è andata via. Eccola, sta tornando. Vediamo. Ragazzi, l'aria che si respira in questo capanno è meravigliosa. È magica. Fatemi sapere qua sotto nei commenti se volete un video dove andiamo a far vedere cosa contiene ogni singolo regalo. Io, a quanto pare, vediamo... Ma questo lo posso aprire? Ma io a questo punto mi getterei proprio sui regali più grossi. Teoricamente, ragazzi, dovrebbero contenere un premio un po' più carino. Ad esempio, non mi andrei ad aprire questo, detto con tutta sincerità come primo regalo. Non è cattiveria, ma ragazzi miei, io aprirei qualcosa di grosso. Lui, ad esempio, questo giallignolo. Però non lo so, non mi ispira sto colore. Anche lui è molto bello. Ma voi qua l'avete aperto come primo regalo, ragazzi? Fatemelo sapere qua sotto. No, vado sul viola. Ragazzi, vado sul viola. Vado così. Non lo so, mi ispira proprio lui. Apriamo? Vado a sentimento e ricordo, questo è il mio primo regalo. Ancora non abbiamo visto nulla. Non abbiamo visto cosa contiene ogni singolo regalo. Oddio, i premi ieri live li abbiamo visti, ma non so a quale carta da regalo siano collegati. Quindi apriamo, via. Oh, scarta, scarta, scarta. Guarda che si gonfia. Dammi un premio bello. Ragazzi... Cos'è sto sound? Ragazzi, cosa mi ha dato? Cosa mi ha dato? Che è? Che è una girella degli skate? Che è sto coso? Girandola d'inverno. Un modo un po' bizzarro per volare sotto le feste. È un deltaplano. Ma quanto è figo, ragazzi. È bellissimo sto deltaplano. Stranissimo. Sembra che ci siano un sacco di skate attorno, Babbo Natale in alto e poi tre pupazzetti in basso. Anzi, quattro. Ma è bellissimo. Che figata, ma equipaggio instant. Vai così. Che triste però vedere già un regalo scartato lì. Dai, è come se avessimo rovinato un po' il tutto. Guardate. Si è piazzato lì dietro. Oh, figo, figo, figo. Mi ero dimenticato di questo dettaglio. Ovviamente quando andremo a scartare i vari regali, questi si poggeranno da qualche parte all'interno del capanno. Ci sta. Adesso, in questo momento, io non ho più regali da scartare. Però alle 15, ragazzi miei, il tutto si resetterà ed avrò il mio secondo regalo disponibile da aprire. Quindi ricordate questo dettaglio molto importante. Ogni 24 ore, alle 15, avrete un regalo disponibile. Ripeto, quest'anno ci saranno ben due skin gratuite per il Winterfest. La prima è gaff sdraiato su questo tappeto rosso. La seconda, invece, è contenuta all'interno di questa carta regalo verde. Che tra l'altro richiama proprio la vecchia skin originale. Di chi stiamo parlando? Di Adeline. Ragazzi, andiamo nel mio armadietto. Ve la mostro subito. Raga, sono proprio felice del deltaplano. È troppo, troppo caruccio. Ma davvero bello, eh. Andiamo però sulle skin. Ordine, filtra, preferite, l'avevo piazzata proprio qui. Stiamo parlando di lei. Sarà la skin gratuita del capanno di mezz'inverno assieme a Gaff. Ovviamente con uno stile nuovo. Quindi uno stile tutto rosso, un maioncino rosso, con dei fiocchi di neve e così via. Se devo dire la verità, non mi fa impazzire come skin e non l'avrei mai immaginata sotto forma di stile natalizio. Però è Natale e ci accontentiamo di ogni singola cosa. Quindi, ragazzi miei, va benissimo così. Attenzione però perché le ricompense non terminano qui. Perché vi sto mostrando questi mod? Facciamo un po' di peso, ragazzi miei. Alziamo un po' di ghisa. L'emot ferro a ricciacapelli sarà disponibile gratuitamente a tutti coloro che giocheranno almeno con 5 amici diversi durante il Winterfest. In qualsiasi modalità. L'importante è che siano amici provenienti dalla vostra lista amici e che si giochi. Potete giocare anche in gruppo tranquillamente, anche la modalità creativa e avete tempo fino al 3 gennaio, ore 15. Attenzione però, questa ricompensa sarà poi disponibile il 6 gennaio o nei giorni vicini. Un altro regalozzo, sicuramente lo avrete visto ieri in live, è questo backpack creativo di un lama che startisce ogni volta che effettuiamo delle kill oppure apriamo delle chest. È fantastico. È disponibile purtroppo solamente a coloro che hanno la crew attiva sul proprio account. Quindi nel momento in cui loggerete troverete questo regalo extra sul vostro account, ragazzi. Noi andiamo a guardare il negozio oggetti. Non so quante volte farò avanti indietro con questo capanno di mezz'inverno. Ragazzi, davvero lo amo. Sapete quanto tenga a questo evento. E quindi un bel codico Martex e la tienda TheFortnite. Un grazie a tutti quanti voi che shoppate con il codico Martex qui. Da riaggiornare ogni 14 giorni sulla voce supporta un creatore. Martex, maiuscolo, minuscolo e uguale. Cliccate su accetta e rifate questo giochetto ogni 14 giorni. Ragazzi miei, abbiamo Master of Puppets. Un emote per quattro giocatori che a quanto pare... Direttamente da Stranger Things. Ma tra l'altro mi hanno droppato Jonesy Maglione Caldo. Ora che la stavo indossando. Ma seriamente? Epic. Ma vabbè. È un emote coperittata? Purtroppo sì, ragazzi. Però si può sincronizzare con altri tre giocatori oltre a voi. Anche se loro non sono in possesso di questi mod. E ogni giocatore utilizzerà uno strumento diverso. Quindi una vera e propria band. La sezione è la stagione. E dunque Natalizia si arricchisce ancora di più con queste tre skin. Perché sì, ragazzi miei, queste domani scenderanno. E si andranno ad affiancare assieme a tutte le altre. Sotto vediamo che cosa abbiamo. Un po' di Loopers. Pre-evento finale. Ok. Va benissimo. Scatenate Volpe di Fuoco. Milite da 800 V-Bucks. Questa è una skin season 1 capitolo 1, ragazzi. Questa è una skin. Questa è la skin, ragazzi. 800 V-Bucks. Mi fa ridere come vengano droppate nello shop queste skin notes. Guardate. Super zoomate così. Vecchio stampo. Copertura invernale invece del tablano proprio da capitolo 2. È quello lo stile. Via da qui non ricordo. Ah, ok. Sotto abbiamo ancora Hulk. Terminator. Rick e Morti dicevano di toglierlo. Sì, dicevano di toglierlo. Uscirà dalla rotazione oggetti ancora qui. Va bene. Ieri lo starter pack è uscito proprio qui in basso. E tra l'altro, nelle offerte speciali, ragazzi, sappiate che troverete GAF natalizio a 0,0 euro. Proprio come vi sto mostrando con questa interfaccia. E sul secondo account, esattamente. Io l'ho già riscattato sul primo. In molti si stanno lamentando su questo fatto, ragazzi miei. Di non poterla riscattare da PS4, PS5, Xbox, Switch. Purtroppo è una skin presente solamente sullo store di Epic Games. In questo caso vi è mostrata anche nel negozio oggetti direttamente da computer. Però, ragazzi, vi consiglio di installare Fortnite su un computer anche vecchiotto, tranquillamente. Alla fine dovreste loggare solamente nel negozio oggetti e riscattare la vostra skin. Ovviamente dopo aver collegato il vostro account. Altrimenti, come stanno facendo tutti quanti, ragazzi miei, GeForce Now è il problema. Si risolve direttamente sul vostro dispositivo on-vile. È come se usaste un computer, ok? Avete tempo fino al 3 gennaio, ore 15, per riscattare questa skin e portarvela nell'armadietto. Quindi, ragazzi miei, affrettatevi. Io spero che il video di oggi sia stato di vostro gradimento. Fatemi sapere qua sotto cosa ne pensate del Winterfest. Finalmente è tornato il capanno di mezz'inverno assieme a tutta la magia del Natale. Ci saranno tanti, tanti, tanti regali da aprire ogni singolo giorno, quassù con il video mattutino. Mamma mia, ragazzi miei, non vedo l'ora. Noi ci becchiamo più tardi con lo shorts giornaliero. Un saluto da Martex e, come al solito, un bel... See ya, bruders!